Qui ci sono dei nomi che non riesco a leggere in quanto non parlo l'inglese. Nel primo semestre del 2009, su 15 figli di Rili scesi in pista, 12 sono state le vittorie conquistate dai danti ufficiali dell'Ara. Nel 2009 ha speculato, ha fatto registrare un tasso di fertilità altissima, infatti con 34 matrici coperte 30 sono risultate gravi. Ottimo recontato per uno stallone di tale caldo. Il tasso di monta per il 2010 è di 100 euro per il puro sangue e 400 euro per il metodo sangue. Per informazioni, l'avvocato, l'avvocatessa Romila Fisna, Alcalempolo 331. Poi abbiamo lo stallone che sono solo 4 e c'è Figlio di Orecco che proviene dalla scuderia di Mario Oppo di Chilarza. Poi abbiamo Apollo Wells, di nuovo un puro sangue inglese. Il tasso di monta di Marrubbio. L'incitore di 7 corse, di 7 piastamenti su 55 corse effettuate. Tiegoli dell'Ara. Grazie.